Ma che cazzo? Assi di merda! Non so che video fa Bello ragazzi, benvenuti nel mio quarto vlog Lo faccio perché non so che video fare Come avrete capito dall'intro E probabilmente la mia posizione sarà diversa Perché mi si è scaricata la telecamera mentre registravo E quindi c'ho avuto un po' di cazzi massi del culo Comunque faccio questo video per dirvi Che forse farò un vlog a settimana In cui risponderò alle vostre domande Forse, non lo so, se vi piace come idea Magari fatemelo sapere nei commenti Almeno faccio tipo un vlog ogni sabato Il video del sabato sarà il vlog In cui rispondo alle vostre domande E quindi fatemi sapere se vi piace come idea Anzi, se vi piace fatemelo sapere Intanto scrivetemi sotto anche una domanda Che mi vorreste fare Qualsiasi tipo di domanda Non ci sono limiti all'immaginazione umana Quindi chiedemi un po' quello che vi pare Poi settimana prossima io ne sceglierò 10 a caso E quindi andremo avanti di sabato in sabato Cadenza settimanale E volevo caricare dei video di prototype di sabato Di prototype 2 Però li sto caricando su Melagoto Quindi lascio il link in descrizione Almeno potete andare a vederli E ve li gustate su quel canale Ovviamente là non c'è una data precisa Per quando escono Però quando li trovate là Vi lascerò comunque il link Sulla mia pagina fan Quando Johnny lo carica E quindi passate anche dalla mia pagina fan Che lì troverete miliardi di news A riguardo proprio Dei miei video Passate anche a vedere l'ultimo video Che ho fatto un altro moab fail ovviamente Proprio per non perdere l'abitudine Sempre qui sul mio canale Passate anche sul mio secondo canale In cui sto portando avanti Il protocommander su Mv2 Boh, niente Volevo dirvi solo queste due cose Vlog piccolissimo Due minuti e mezzo Quindi fatemi sapere se l'idea dei vlog settimanali vi piace Spero che la telecamera non si scatigli adesso E fatemi le vostre domande nei commenti sotto Noi ci sentiamo domani sul secondo canale Con un nuovo episodio di Voterotto Commando Oppure martedì Con un video di Battlefield Bella